Tragedia della Marmolada, lunedì al Passo Fedaia con una cerimonia verrà celebrato il triste anniversario. Il Veneto è stato il territorio che ha avuto il maggior numero di vittime, otto, che sono Filippo Bari, Tommaso Carollo, Paolo Dani, Nicolò Zavatta, Davide Miotti, Erika Campagnaro, Gianmarco Gallina e Manuela Piran. Lo ricordo il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, parlando di una tragedia che ha colpito chi la montagna l'amava, la lieveva e la affrontava pienamente. È stata una casualità che in quel momento, proprio in quell'ora, in quel punto, ci fosse il passaggio di tutti quei ragazzi e di quelle persone che purtroppo oggi non ci sono più. Quindi ci possiamo solo stringere le famiglie e dargli un grande abbraccio. Una tragedia che ha lasciato il segno sul ghiacciaio della regina delle Dolomiti. Le 13.43 furono il momento in cui si registrò il crollo della parte sommitale del ghiacciaio e il distacco di una massa enorme di ghiaccio e pietra che travolse le vittime. Il fatto di vietare è sbagliato. Dobbiamo dare le informazioni e avere la consapevolezza di affrontare un ambiente che ha dei rischi importanti, dei rischi che rimane un rischio residuo, cioè rimane quel rischio oltre il quale, avendo anche definito i minimi dettagli della nostra escursione, non abbiamo la competenza e la conoscenza per definire se succederà o non succederà. Quindi la frequentazione della montagna ha di per sé il fascino di arrivare in vetta, di affrontare un tracciato che nasconde delle insidie che non possono essere eliminate. Chi frequenta la montagna lo sa e accetta questa dose di rischio.